ariete a casa ti aspetta una sorpresa di certo sei una persona molto amata e soprattutto sai farti amare toro oggi sorprenderai tutti anche te stesso quanto vigore oggi quanta voglia di fare creare vivere la luna splende gemelli non è più propriamente estate non è più caldo come piace a te e forse sarebbe bene fare una bella cura di vitamine un carico di energie e forza in vista dell'autunno cancro pensa e rifletti su ogni parola e sulle possibili conseguenze di una frase solo apparentemente innocua ne va della serenità professionale familiare leone la consapevolezza che oggi forse la tua vita è esattamente come l'avevi immaginata ti appagherà e ti farà sentire pace con il mondo vergine oggi meglio evitare sorprese e cambi di programma ami i cambiamenti sempre ma non oggi bilancia rischierai di mettere a repentaglio la storia che stai vivendo il desiderio di altro forse cela alla fine di quello che credevi essere l'amore per sempre scorpione l'amore conta se siete insieme da sempre oggi forse vi guarderete negli occhi come non accadeva da tempo e troverete ancora la voglia di stare insieme sagittario senti che questa settimana il tuo trend positivo vanno goduti e vissuti fino all'ultimo minuto il weekend è alle porte e tu non riesci a pensare ad altro capricorno marte ti invita al coraggio se vuoi conquistare qualcosa devi combattere o anche solo dichiarare il tuo interesse acquario lavoro non stop si lavora duro e forse dovrai anche affrontare qualche difficoltà mica da poco pesci prova ad affrontare tutto con un po di leggerezza e filosofia e non con i soliti pugni al muro grazie a tutti grazie a tutti